Sarà il Nabucco di Giuseppe Verdi, protagonista del progetto Fondazione all'Opera per il 2011. Il Nabucco, con la neodirezione artistica affidata al maestro Massimiliano Stefanelli, aprirà la stagione lirica Terramana con la rappresentazione di domenica 16 ottobre alle 17.30 al Teatro Comunale, con replica martedì 18 alle 20.30. Come consitudine saranno coinvolti altri teatri, il 23 ottobre a Fermo, il 3 novembre ad Atri, il 6 novembre ad Ortona. La preventiva dei biglietti è già attiva presso la sede della Primo Riccitelli. È un progetto che ormai fa parte della storia, diciamo, dell'attività musicale di Terramo e in realtà è promosso dalla Fondazione Terracas insieme a una probabilità di enti perché, come sapete, a questa manifestazione partecipano oltre al Ministero dei Beni Culturali, la Regione, la Provincia, il Comune di Terramo, il Comune di Atri e i teatri di Terramo, di Ortona, di Fermo e di Atri, appunto, dove si svolgeranno le rappresentazioni. Partecipano anche all'organizzazione di questo insieme la Sinfonica Bruzzese, l'Istituto Braga e la Riccitelli. Qua allestiamo il Nabucco, pensato dal Maestro San Vitale, mio predecessore, come celebrazione terramana dei 150 anni dell'Unità d'Italia. È un'opera, come voi sapete, estremamente importante da quel punto di vista, estremamente evocativa di un sentimento di collettività nazionale che in quest'anno particolare ci appartiene ancora di più. Cosa lei ritiene caratterizzerà questa edizione del Nabucco? Trovo che sia interessante il taglio interpretativo che ne stanno dando il regista Nicola Zorzi e il maestro Marcello Bufalini, nel senso soprattutto di contrapposizione culturale fra due culture molto diverse che simboleggiano in qualche modo un mondo ricco e stratificato di valori e un mondo nuovo, tecnologico, che di fronte a quei valori alla lunga non può che soccombere.